Ancora Filippo, apertura sulla destra per Krasic, palla in mezzo a cercare Alessandro Matri, solamente che il pallone è un po' troppo lungo, ma Matri lo mette a terra, attaccato da Beckham che dice non ho fatto fallo, non ho fatto fallo, vediamo la decisione da parte dell'arbitro, il fallo ci sta e quindi calcio piazzato per la Juventus evidentemente con David Beckham, eccolo qua inquadrato, le telecamere sempre solo su di lui. Calcio piazzato per la formazione bianconera, in mezzo ci sono Krasic e Martinez, fare la guardia c'è Gary Neville anche, vediamo che cosa succederà in questa azione, area molto affollata, tutti i migliori saltatori bianconeri in mezzo all'area di rigore. Palla dentro il tiro, il pallone è gol, la punizione assolutamente straordinaria di Manuel Giandonato, un gol fantastico, quello del giovane dicendo bene abruzzese bianconero. E allora la Juventus al minuto numero 33 va in vantaggio con questa punizione straordinaria di Manuel Giandonato. Ragazzi che gol che ha fatto Giando, un gol bellissimo sul palo opposto con tanti saluti all'Indegard, Manuel Giandonato ha trovato una chicca nel teatro dei sogni a Oltrefford che non si dimenticherà mai, non se la dimenticherà mai. 33esimo minuto della seconda frazione, la Juventus passa in vantaggio con questa bellissima punizione.